Rende bene l'idea, ti porta via l'umanità in qualche modo. In realtà parla di faida, parla di mancata libertà di scelta sia da parte di Marellena che di Andrea. Parla di doveri verso la famiglia e di doveri di una donna verso il marito. Parla dell'opposto dell'amore e della libera scelta. Parla di una donna coraggiosa e di una madre e dell'amore per i figli.